A Gesù si avvicina un lebroso, gli si prostra i piedi e grida Signore se vuoi puoi guarirmi e Gesù risponde sì lo voglio puoi guarire ma non si ferma qui Gesù ma con queste parole si avvicina di più gli stende la mano e lo tocca e il lebroso guarisce Gesù fa un gesto fuori lice in quanto che il lebroso era un contannato a vivere fuori della città come un raminco, come un cane randaggio Nessuno lo poteva avvicinare, nessuno tantomeno lo poteva toccare perché a sua volta diventava lebroso Veniva anche se non prendeva la lebra, era considerato un lebroso E Gesù fa questo gesto, lo tocca oltre a dire lo voglio Questo è importante perché non bastano le parole Ci vuole l'afflato sensibile, è l'amore concreto che convince, che sconvolge Non sono i discorsi, non sono le conferenze anche belle, piacevole, dilettevole No, no, è la dimostrazione concreta che si vuole bene l'altra persona Più che le parole, un pezzo di pane spezzato E porta la conversione Gesù non vuole guarire soltanto le malattie del corpo Vuole principalmente toccare il cuore E quindi le conversioni Abbiamo qui a San Giovanni Rotonto Una scena grandiosa, meravigliosa, forse anche poco conosciuta Siamo ai primi tempi di cui si parlava di Padre Pio Parliamo di Cesare Festa Cugino di Giorgio Festa Che fu infiatto da Sant'Ufficio a San Giovanni Rotonto Per lo studio sull'estimate di Padre Pio Cesare Festa era in crisi di coscienza E si rivolge al cugino E il cugino dice Qui ci vuole una cura di rovente Vai a San Giovanni Rotonto E arriva a San Giovanni Padre Pio è in sagristia Parla con alcune persone Ed entra in sagristia Padre Pio come lo vede dice Tu sei un massone Che cosa fai qui? E l'altro Sì, io sono un massone E qual è il tuo ruolo nella massoneria? Sono il rappresentante del tribunale Della massoneria in Liguria Qual è il tuo compito? Compattere la Chiesa Questo è il primo impatto Tra Padre Pio e questo grande massone Che compatteva la Chiesa E Padre Pio con dolcezza dice E va bene, e vieni con me E lo porta all'interno del convento E come vecchi amici Tra la battuta scherzosa E il racconto del filoprodigo Delle parabole del Vangelo Cesare si scioglie E riacquista vita Padre Pio non gli fa nessuna predica Ma gli parla col cuore Tanto che Cesare comincia a dire Ma io adesso strappo subito Le mie credenziali presso La massoneria della Liguria E Padre Pio dice No, devo aspettare E ritorna a Genova E Padre Pio prima di partire Gli dice Deve andare a Lourdes Perché tu hai bisogno Del miracolo e della Madonna E la massoneria Lo attacca in tutti i modi Il giorno in cui Sedeva presentare alla loggia massonica Per discolparsi di quello Che stava facendo Nell'uscire di casa Trova il portinaio Che gli consegna una lettera Lui legge il timbro della posta Viene da San Giovanni Rotondo Apre subito la posta E legge un pensiero di Padre Pio E' giunto il tempo Di affermare la tua fede In Cristo Gesù E Cesare va alla loggia E per la prima volta Nella loggia massonica Si parla a favore Di Cristo Signore Piccola 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 Sagrari